Il più bel giorno della vita sta per arrivare? Festeggialo con noi e scopri le ultime novità nel mondo dei matrimoni! Dotolo Mobili presenta Nozze d'Autore, un evento dedicato a chi si sta per sposare e non solo! Martedì 25 aprile, un evento imperdibile con sfilate delle migliori firme e tanti stand espositivi! Uno spettacolo imperdibile! Madrina della serata, Daniela Fazzolari! Ti aspettiamo martedì 25 aprile, dalle 10 del mattino, presso lo showroom Dotolo Mobili, al passo di Mirabella e Clano! Appuntamento con la sfilata, ore 19.30 Dotolo Mobili è passione per il matrimonio!